Musica Ancora non conosci Studio 98 Labu? Qua puoi suonare qualsiasi genere tu voglia Musica 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 Da quando suono la batteria sono ringiovenito totalmente Musica Musica Vieni anche tu a fare musica con noi Io sono qua da tanti anni se ti va di provare qua ci puoi trovare Musica 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 Ciao iniziate tu con lo scritti Musica Apprettati Musica